Sono Enrico, detto Nol, ho 23 anni e sono un contadino. Nol deriva da bacanol, nella lingua latina è piccolo contadino, cioè bacana è contadino, sarebbe. Da bacanol a Nol. Chi mi conosce è Nol? Sono io. La mia storia è un po' tipo lo zabaione, mescolata, spumeggiante, perché sono nato nelle Marche, dalle Marche siamo venuti su e io sono cresciuto in Trentino, diciamo qua. Per me, Trentino, la vita qua di montagna è una roba bella di più, sai? Anche quando inizia a stagliare il fieno, che vedi proprio questo cielo che scoppia di blu. E poi la montagna a me mi ha regalato il mio sogno, mi ha regalato quello che ho sempre voluto, quello che ho sempre desiderato. E quello che ci sono arrivato, un obiettivo ben specifico, la mia azienda. Posso dire di essere arrivato in tre anni un uomo, cioè un ragazzo, un uomo che è arrivato a un obiettivo, fatto centro. Sono troppo appiccicose le mie Marche, cioè se tu vai dentro di stagliare non sei capace di venire fuori, ce le hai tutte sempre l'attaccate, tutte l'attaccate, ma perché io li voglio bene, perché fin da piccolino io sto dietro, cioè sono brave. Aspetta, aspetta, aspetta. Carugna. Sì. Guarda, sposta, sposta. Guarda, sposta. Carugna. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Questa è un po'... Un po' bastardo proprio. Anche quando ci sono le giornate, no, perché c'è le giornate che va qualcosa storto. Però alla fine della fiera trovi sempre quel punto bello, perché vado a dormire stanco, ma essere stanco di essere stato contento di aver fatto questo mestiere. E adesso possiamo fare l'altro passo, perché avere un'azienda, avere tanti obiettivi, ma l'obiettivo della famiglia è importantissimo per me. Io ho una famiglia stupenda, una famiglia molto unita nel lavoro, proprio nella famiglia in se stessa. Quando ci vuole a preparare? Dai ragazzi, forza! Però se non mi dò un attimo una svegliata con le ragazze, dopo è difficile la situazione. Mi piacerebbe proprio avere la ragazza. Ci vuole che ti dà una svegliata, eh? Curiamo il tuo look? No, 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 no. Eh, brava, Manuela! Ricordate che l'abito non fa il mondo come io, sono come ciò, se loro gli piacciono, sono io, punto, basta, sto figlio. È sicuro che una è sua? Ma io, cioè, il mio futuro mi vedo la famiglia, i bambini, perché se no da solo no, eh. No? No, sottoscritto da solo no. Però l'amore si costruisce, è ricco. Ah, l'amore è una roba complicata, eh. È più facile fare il contadino. L'amore è una roba che si deve sentire in due, deve essere forte. Ma non l'amore astratto, proprio l'amore realistico, l'amore vero, quello mi piacerebbe proprio. Io come persona ho da offrire me stesso, come che sono io. Cioè, quello che so, senza maschere, senza veli, senza niente. Ragazze, se cercate solo fisici, apparenza e tutto cichi cichi boom boom, no. Qui c'è vero amore di un vero contadino, se volete venite su in Trentino.